E' iniziata la demolizione del liceo Guglielmo Marconi di Pescara avviata dalla provincia. L'intervento che ha sollevato molte polemiche tra studenti, famiglie e anche personale inizia e sarà completato entro il 26 maggio del 2022 poiché la ditta B&B Costruzioni ha 240 giorni di tempo per completarli. Con Luca Corneli ci troviamo in via Marino da Caramanico dove gli studenti e tutto il personale torneranno nel 2022. L'intervento per un importo di 7 milioni e 860 mila euro prevede la demolizione dell'edificio scolastico esistente ad eccezione della palestra e la ricostruzione di due corpi di fabbrica e successivamente ci sarà la demolizione e ricostruzione dei locali che ospitano la palestra. Al prossimo 18 ottobre sarà l'ex-fater di via Alessandro Volta, noto anche come Palazzo Fuxas, ad ospitare gli studenti di 17 classi del liceo Guglielmo Marconi che attualmente si trovano all'interno di altre due scuole, gli istituti Aterno Mantonè e Di Marzio Michetti. Attualmente sono in corso i lavori di adeguamento. L'anno prossimo gran parte delle 66 classi del liceo rientrerà nella sede di via Marino da Caramanico, ci ha confermato la dirigente Giovanna Ferrante. State cercando di fronteggiare i disagi che sia il personale che gli studenti e quindi di conseguenza le famiglie stanno affrontando in questo periodo? Siamo molto operativi dal primo settembre, c'è una grande sintonia e sinergia con la provincia. Spesso insieme ci rechiamo sui cantieri, facciamo questi sopralluoghi e siamo soddisfatti che le promesse saranno mantenute. Sicuramente noi il 18 di ottobre rientreremo tutti in orario antimeridiano, quindi non ci saranno più i doppi turni che i ragazzi destinati alla ex-Fater hanno dovuto e stanno ancora sopportando. Siamo speranzosi e fiduciosi che l'anno scolastico e tutta l'offerta formativa bellissima e meravigliosa del Marconi sarà tutta messa in opera, tutta realizzata. L'ingegner Luigi Urbani, dirigente della provincia di Pescara, come stanno procedendo i lavori sia in via Marino da Caramanico che in via Volta? Direi bene, rispettiamo il cronoprogramma iniziale per entrambi gli interventi. La vecchia sede del Marconi ha visto le ruspe in azione già da lunedì mattina e nel giro di 15 giorni credo che l'aria sarà tutta bonificata, quindi partiranno da subito i lavori per le fondazioni della nuova struttura del Marconi i cui lavori dovranno essere compiuti entro 240 giorni, quindi 8 mesi lavorativi per riavere 2 corpi su 3 disponibili. Subito dopo partirà il terzo lotto, anzi contestualmente a questi lavori con altre forme di finanziamento, quelle del MIUR. Abbiamo trovato al Volta una struttura che doveva essere adeguata funzionalmente, uno spazio assolutamente a norma delle aule magnifiche, molto ampie, rispettose della normativa a riguardo dell'edilizia scolastica.